Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Rubata a Pesaro una valigetta contenente 40.000 euro in contanti, a Fano invece topi d'auto in azione a Bellocchi 2 novembre la ricorrenza per la commemorazione dei defunti, in tanti si sono recati ai cimiteri cittadini In quello centrale a Fano il Vescovo Trasarti ha celebrato una santa messa Segnali di risveglio per la pesca fanese, al porto è arrivato Dragut, una barca di oltre 100 tonnellate Ancora chiusa la nuova bretella Rosciano Bellocchi, il circolo Nuova Fano chiede spiegazioni al sindaco Seri Fino a domenica il popolo del rinnovamento nello spirito è impegnato alla conferenza nazionale degli animatori a Pesaro La città è riconfermata dagli organizzatori anche per il prossimo anno Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Lo avete sentito dai titoli, un colpo grosso è stato messo a segno Ieri sera all'ora di cena in un appartamento nel quartiere Loreto a Pesaro in via Milite Gnoto Dove è stata rubata una valigetta contenente ben 40.000 euro in contanti Il furto è stato compiuto ai danni di una famiglia tedesca giunta nel capoluogo evidentemente per concludere qualche affare La famiglia in quegli istanti non era nell'appartamento Quindi tra le ipotesi ci sarebbe anche quella che i malintenzionati fossero a conoscenza del tesoretto Sul caso indaga la polizia E ancora a topi d'auto ma questa volta nel quartiere di Bellocchi a Fano Dove i ladri hanno preso di mira un furgone parcheggiato lungo la trentesima strada A parte della refurtiva una batteria di backup per computer Quella che vedrete fra poco nelle foto È stata rinvenuta da un fanese in via ventisettesima strada L'uomo ha prontamente segnalato l'episodio al commissariato di Fano Insospettito dal ritrovamento E gli agenti una volta appurato che si trattasse di un furto Hanno provveduto a riconsegnarla ai legittimi proprietari Oggi 2 novembre si sono svolte diverse cerimonie civili e religiose Per la commemorazione dei defunte In tanti si sono recati nei cimiteri cittadini per far visita ai propri cari In mattinata il vescovo Armando Trasarti ha celebrato una santa messa al cimitero centrale di Fano In servizio di Francesco Salvago La commemorazione di tutti i fedeli defunti Comunemente detta Giorno dei Morti È una ricorrenza della Chiesa Latina Celebrata il 2 novembre di ogni anno Il giorno successivo alla solennità di tutti i santi La ricorrenza è preceduta da un tempo di preparazione e preghiera In suffraggio dei defunti della durata di nove giorni La cosiddetta novena dei morti che inizia il giorno 24 ottobre Alla commemorazione dei defunti è connessa la possibilità di acquistare un'indulgenza parziale o plenaria Secondo le indicazioni della Chiesa Cattolica In Italia, benché molti lo considerano come un giorno festivo La commemorazione dei defunti non è mai stata ufficialmente istituita come una festività civile Il colore liturgico di questa commemorazione è il nero Che nella forma ordinaria del rito romano Può essere sostituito con il violaceo Il colore della penitenza utilizzato anche nei funerali A Fano sono molti cittadini che per l'occasione si recano di consueto Come ogni anno in cimitero visitando e portando in dono fiori e lumini sulle tombe dei propri cari A volte la tradizione non sempre però viene rispettata Ancora esiste oggi la tradizione di portare un fiore? Esiste ma molto meno degli anni scorsi Perché col fatto che sono state tolte queste festività Tranne il giorno dei Santi Ma comunque i centri commerciali sono tutti aperti Quindi chi lavora lì, lavora E si è andata un po' a perdere come tradizione C'è specialmente le persone anziane, sì Ma il giovane è molto meno, un po' forse più di corsa C'è un fiore che va per la maggiore che principalmente viene utile? Il solito per la persona anziana va molto il crisantemo Che è un po' il fiore della tradizione Ma se no vanno anche le rose, anche altri fiori, le orchidee Però ecco, la maggior parte è il crisantemo Perché è la tradizione qui da noi del crisantemo Vanno di più i fiori finti o veri? Un po' più i fiori veri in questa occasione Però anche molti fiori finti A seguito della messa presieduta da padre Franco Nardi Superiore della comunità dei frati Cappuccini E dal vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola Armando Trasarti Si è passato al rito della deposizione della corona dall'oro In presenza delle autorità cittadine E un incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 15.30 L'intersezione di via Enrico Mattei con strada a San Michele Di fronte all'aeroporto di Fano Coinvolte due vetture, una micra nera e una fiesta di colore blu Nell'urto provocato probabilmente per una mancata precedenza Una donna in gravidanza al settimo mese è rimasta ferita Ma in modo lieve ed è stata trasportata al pronto soccorso Della Santa Croce per accertamenti La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale A Pesaro invece in violenza questa mattina Una ragazza di 22 anni era in sella alla sua Vespa Quando si è scontrata con una Fiat Panda Che procedeva nella sua stessa direzione Ed era intenta svoltare a sinistra Nell'urto la giovane finita sotto l'auto rimanendo incastrata Ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco Per liberarla sul posto anche un'ambulanza del 118 Che l'ha trasportata all'ospedale E la polizia municipale per i rilievi di legge Sono conclusi da circa due mesi I lavori sulla bretella stradale Che collega i quartieri di Rosciano e di Bellocchi Ma ancora questo tratto non è stato aperto A chiedere spiegazioni al sindaco di Fano Massimo Seri Oggi è il circolo Nuova Fano La preoccupazione è quella che il collaudo Non passi per la mancanza di un ciclo pedonale Sentiamo A seguito delle recenti vicende Che hanno messo al centro dell'attenzione Il tema delle strade della viabilità cittadina Riguardanti la chiusura di accesso al blocco autostradale Creando diversi disagi di circolazione Per gli utenti della strada Il circolo Nuova Fano si interroga su un'altra questione Riguardante la nuova bretella stradale Prevista nel progetto di viabilità dei lavori compensativi Che della nuova rotatoria della Flaminia Collega i quartieri di Rosciano e Bellocchi Allora noi dopo le cadute che abbiamo visto Di questa amministrazione In merito alle asfaltature da rifare In merito all'autostrada che è stata chiusa E quindi non erano avvisati E poi la società autostrade ha detto Che comunque il sindaco e l'assessore Erano stati avvisati in tempo Ci siamo insospettiti del fatto Che anche questa arteria Rimanendo sempre in tema di strade Terminata ormai da circa un paio di mesi Non venisse ancora inaugurata Questa amministrazione ha una grande fretta Di tagliare i nastri E questa cosa ci ha fatto porre delle domande Siamo venuti sul posto Abbiamo dato uno sguardo Ci siamo informati E le domande sono arrivate Per certi versi C'è una legge che sancisce Il nuovo codice della strada Che è l'articolo 285 Dove all'articolo 2 E al comma 1 Prevede che le costruzioni di strade Con definizione locale Quindi urbana e astorurbana Debbano essere provviste Di percorsi pedonali E di aree di sosta di urgenza Noi su questa strada Non vediamo percorsi pedonali E non vediamo aree di sosta di urgenza Tra l'altro Se si fa una bretella come questa Che deve raggiungere Abitazioni e luoghi di Fano In maniera più veloce Se uno ci vuole andare in bicicletta O a piedi È costretto invece a prendere la macchina Quindi questo ci sembra molto illogico Quindi chiaramente la domanda E il sospetto Ci è venuto Quindi noi chiediamo al sindaco Delle spiegazioni Per quale motivo Questa bretella ancora non è stata aperta Se è veritiero Che ci sono problemi Legati al collaudo Che non viene passato Per i motivi Che noi abbiamo In questo momento Spiegato E quindi ci aspettiamo Ci aspettiamo Una risposta Ecco sia da lui Sia dall'assessore Eventualmente preposto Che credo che sia L'assessore L'assessore Dopo il cambio di viabilità Portato dall'amministrazione comunale Su via Campanella Rosciano di Fano Oggi i consiglieri di minoranza Hanno presentato una mozione Per impegnare il sindaco E la giunta A realizzare al più presto Una rotatoria In grado di mettere in sicurezza L'incrocio che vedete nelle immagini Reso ancora più pericoloso Si legge in una nota dei consiglieri Dalle modifiche effettuate In questi giorni E ci sono buone notizie Per la pesca a Fanese Infatti ci sono segnali di ripresa Da una settimana circa E' arrivato al porto Il motopesca Dragut Una imbarcazione di grandi dimensioni Con oltre 100 tonnellate di stazza Acquistata di recente Da una società di armatori fanesi Al suo fianco Ormeggia la gemella Gioacchi E' approdato nella darsena fanese Nello scorso fine settimana Il motopeschereccio Dragut L'imbarcazione del peso Di oltre 100 tonnellate Gestito da una società armatoriale fanese Ed amministrata dal comandante Paolo Palazzi Il Dragut farà base Per la sua attività di pesca Un motopesca ad altura Nel porto di Fano Insieme al Gioacchi Un altro motopesca Sempre di proprietà Dell'omonima società Entrambi i motopescherecci Riescono a contenere Un equipaggio di circa 6 persone A bordo Rafforzando di conseguenza La flotta fanese Per l'attività di pesca Che generalmente Viene praticata in alto mare E garantendo un'opportunità Di sostegno Per tutta la filiera ittica locale Compreso il commercio all'ingrosso E al dettaglio L'arrivo delle due barche Come ricorda il comandante Sono di nuovo auspicio Anche a fronte degli ultimi anni I quali ha visto ridursi Drasticamente Il numero di imbarcazioni Proviamo a rilanciare la pesca Quello che praticamente a Fano Era Fano viveva di pesca Perché se andiamo a vedere Nei tempi dietro La marineria Era insomma La base di Fano Penso io Resta inoltre Da verificare La navigabilità E soprattutto L'accesso Dei due grandi pescherecci Che trovano attualmente Difficoltà di accesso Tra i due moli Volevamo fare Una segnalazione Perché Hanno fatto un bel lavoro Il dragaggio dentro Sì Hanno pulito tutto Però L'entrata L'imboccatura Come diciamo noi Non è stata pulita E io Spero che il sindaco O chi di dovere Ci dasse una mano Perché noi Con queste barche qua Rischiamo di Quando c'è la secca La bassa marea Di toccare Visto che Quella 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 sabbia lì Può andare anche Come ripacimento Per le spiagge No? Non è una cosa Che c'è il fango E la sabbia Se prima possibile Viene portata via Almeno dare una pulita Nell'imboccatura E fino a domenica Il popolo del rinnovamento Nello spirito È impegnato Alla conferenza nazionale Degli animatori A Pesaro Gli organizzatori Confermano L'appuntamento Nel capoluogo Anche per il 2019 Sentiamo Tutti i dettagli Nel prossimo servizio Di Stefano Mascioni L'astronave È di nuovo carica Di pellegrini Del rinnovamento Dello spirito Dopo l'assemblea nazionale Dello scorso aprile Infatti In questi giorni L'Adriatica Arena Di Pesaro Sta ospitando La 42esima Conferenza nazionale Animatori Del rinnovamento Dello spirito La cui traccia Di riflessione 2018 Si basa Sull'esortazione Apostolica Di Papa Francesco Dedicata Alla santità Gaudete Et exultate Ovvero Chiamati Ad un servizio Santo L'appuntamento È iniziato Ieri pomeriggio Con la relazione Di apertura Del coordinatore Nazionale Mario Landi Intitolata Lasciatevi Trasformare Rinnovando Il vostro modo Di pensare Per poter discernere La volontà Di Dio Seguita Dalla Santa Messa Ufficiata Da Sua Eccellenza Monsignor Piero Coccia Arcivescovo Di Pesaro E Presidente Della Conferenza Episcopale Marchigiana Oggi ancora conferenze A cura di Don Angelo Passaro E padre Antonio Spadaro Mentre la giornata Si è conclusa Poco fa Con la celebrazione Eucaristica Ufficiata Da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti Arcivescovo Di Pescara Ogni sera Dalle 22 A luna Sono previste Le adorazioni Eucaristiche In varie chiese Organizzate Dal rovetto ardente Mentre i lavori Riprenderanno Domattina Alle 9 E proseguiranno Fino alle 19.30 Seguiti direttamente Dal Presidente Nazionale Del Rinnovamento Dello Spirito Salvatore Martine Questo messaggio Mi incoraggia A profondire Domenica si chiude Alle ore 13.30 Con i saluti E la partenza Dei Pullman Insomma Appare proprio Che il rinnovamento Dello Spirito Abbia trovato a Pesaro Un luogo ideale Per i suoi incontri E se da una parte La preghiera E le attività Procedono con vigore Dall'altra Gli albergatori Della costa Sono soddisfatti Dalle presenze extra Che contribuiscono A rivitalizzare Un periodo Storicamente Debole Basta considerare Che in questi giorni I città Sono arrivate Oltre 3.000 persone Distribuite In circa 100 strutture Tra Cattolica Gabice E Pesaro Facendo riaprire Gli alberghi Stagionali I prezzi applicati In questa occasione Variano dai 30 Ai 37 euro Per la pensione Completa Al seconda Del tipo di struttura Principalmente Alberghi a 3 e 4 stelle E a conti fatti Si stima Un giro d'affari Di oltre 100.000 euro Solo per i pernottamenti La buona notizia La buona notizia poi Anticipata dal presidente Degli albergatori pesaresi Fabrizio Oliva È che il rinnovamento Dello spirito Tornerà a Pesaro Anche il prossimo aprile Per la sua Assemblea nazionale Portando nella città Di Rossini Oltre 9.000 fedeli Merito anche Della gestione Dell'Adriatica Arena Che si adatta Particolarmente bene Alle esigenze Degli organizzatori Anche se dal 1 gennaio 2019 Cambierà il suo nome In Palavitri Grazie alla sponsorizzazione Del gruppo industriale Guidato da Alceste Vitri Torna allo sportello Di ascolto Rivolto alle vittime Alle donne Vittime di violenza Riapre il 5 novembre Non stare zitta Parla con noi La campagna Di sensibilizzazione Promossa dalla psicologia Ospedaliera Di Marche Nord E fortemente sostenuta Dalla direzione generale All'interno del più ampio Progetto Scarpe Rosse Ambulatori aperti Nei nosocomi Di Pesaro e Fano Ed un convegno Per operatori e cittadini Per tutto il mese Le psicologhe Saranno disponibili Ad accogliere le donne O i loro familiari Che vogliono dire basta Ai maltrattamenti fisici Ed emotivi Sarà sufficiente Chiamare dal lunedì Al venerdì Dalle 8.30 Alle 10 E prendere un appuntamento In totale riservatezza E sempre lunedì prossimo Parte la nuova indagine Sulla soddisfazione Dei cittadini Serviti da Aset S.p.a. Che si concluderà Entro la fine del mese Sarà valutato Il livello di gradimento Sul ciclo idrico Integrato E igiene ambientale Proponendo 500 interviste Telefoniche 400 nelle famiglie E 100 nelle imprese Riguardanti Ognuno dei due servizi A campione Le domande Su farmacie comunali Illuminazione pubblica Evotiva Parcheggia Pagamento E laboratoria analisi Prevista inoltre Una quota Di interviste Faccia a faccia Nei luoghi più frequentati E in orari Di maggiore affluenza L'analisi Afferma il presidente Reginelli Permette di esprimere Critiche Valutazioni E suggerimenti Ne faremo tesoro Prosegue Tenendone conto Nel percorso Di continuo miglioramento Garantita la riservatezza Perché il questionario È anonimo Cambiamo argomento Studenti e insegnanti Del Polo 3 di Fano Hanno realizzato Una guida multiculturale Per italiani E stranieri Con lo scopo Di favorire l'integrazione In questo opuscolo Oltre a contenere Le frasi Di uso quotidiano Farnisce indicazioni Sugli uffici pubblici L'assistenza sanitaria Sulle scuole E anche sulla ricerca Di un lavoro Sentiamo Si chiama Erasmus Plus Mind È il nome del progetto europeo Di cui sono stati I protagonisti Gli studenti E gli insegnanti Del Polo scolastico Trefano Insieme ad altri Quattro paesi Tra cui Cipro Germania Irlanda E Svezia L'iniziativa È stata promossa Con l'obiettivo Di realizzare Un calendario E una guida Per i migrati E locali Consentendo agli studenti Di studiare Le modalità di contatto E interazione Che caratterizzano Ogni paese Anche in funzione Della latitudine Di appartenenza Attraverso Differenti approcci Oltre alla cultura E la tradizione Appartenente Ai flussi migratori È un progetto Al quale teniamo Tantissimo Dura da tre anni Iniziato nel 2016 E l'ultimo movimento Transnazionale Che prevede L'incontro in Svezia Dei ragazzi Sarà A febbraio Dell'anno prossimo È un progetto Attraverso il quale Che ha portato I ragazzi A fare dei lavori Sul territorio Cercando di leggere Conoscere I bisogni Del proprio territorio E il modo In cui il territorio È incluso O non incluso All'occorrenza Gli stranieri Gli immigrati E poi Negli incontri Transnazionali I ragazzi Delle varie nazionalità Si sono confrontati Per capire Quali fossero Le differenze All'interno Del proprio territorio Del territorio Nel quale vivevano Quindi tutto questo Ovviamente Con l'utilizzo Di una lingua Veicolare Che era l'inglese E quindi capite Quale Espressione Culturale Possa avere Per i ragazzi Un'esperienza Di questo genere A curare La veste grafica Interna Al calendario È stata La studentessa Elisa Di Mnaku Ho voluto Rappresentare Le citazioni Di personaggi Molto famosi Come Nelson Mandela O Gandhi Che appunto Hanno fatto Anche cose Molto importanti Nel sociale E per L'accomodamento Delle persone E l'accoglienza O comunque Per il razzismo Gli studenti Invece Hanno contribuito A creare I contenuti Della guida Bilinguistica Beh È una guida Diciamo Enorme Per il contenuto E soprattutto Perché è stata Fatta completamente Da noi ragazzi Abbiamo inserito Dei capitoli Sia pratici Nel senso Magari come trovare Gli amici Sia magari soltanto Di burocrazia Come possono essere I diritti Sia del trovare Magari luoghi Proprio È fatta una guida Apposta Per l'inclusione Non tanto Soltanto per entrare In un paese Ma appunto Anche per viverci Doppia inaugurazione Domenica a Cartoceto Nel pomeriggio Alle 15 e 30 Verrà inaugurato Cartoceto Doppi il festival La 42esima Mostra a mercato Dell'olio e dell'oliva Organizzata Dall'amministrazione comunale E dalla Proloco Cittadina L'appuntamento dunque Si rinnova Con i mercatini Dei produttori Frantoi Degustazioni E osserie diffuse Ma anche teatro Animazione di strada Laboratori per bambini E grande musica Con Sergio Cammariere Valterrici E Fabrizio Bosso E' previsto un ricco programma Per entrambe le domeniche Con un percorso articolato Tra inogastronomia Art Natura E musica E ci saremo anche noi Per realizzare Uno speciale televisivo Che poi vi ritrasmetteremo Nei prossimi giorni In occasione del festival Invece al mattino Alle 11.30 E' previsto Il taglio del nastro Per il locale Ex Pesa Pubblica Situato in via Umberto I A Cartoceto Che verrà intitolato Alla memoria Di Giuliano Grossi Presidente della Proloco Locale Del Comitato Provinciale Dell'UMPLI L'Unione Nazionale Delle Proloco D'Italia L'appuntamento All'appuntamento Saranno presenti Anche le autorità civili Militari e religiose Domani sera Il Comune di Mondolfo Lo vedete alle mie spalle Festeggia L'impresa Del coccio marottese Davide Mazzanti E delle sue ragazze Reducida I mondiali Di palavolo in Giappone Dove hanno conquistato Una medaglia d'argento L'appuntamento E' previsto per le ore 21 Al palazzetto dello sport Di Marotta Proprio dove Mazzanti Ha iniziato A praticare questo sport E dove Nelle scorse settimane E' stato allestito Il maxischermo Per seguire la semifinale Contro la Cina E la finalissima Contro la Serbia Ci spostiamo a Pesaro Perché proseguono Le cene Di Matteo Ricci Nelle case dei pesaresi Il prossimo appuntamento E' in programma Domenica 4 novembre A casa di Valeria Scafetta Giornalista e scrittrice Romana Che si è occupata Anche di storie di mafia Collaborando con L'osservatorio sicurezza E legalità Della regione Lazio Con lei a tavola Ci saranno la sorella Restauratrice Di dipinti e mosaici I genitori E i compagni Delle due sorelle Si discuterà Di temi culturali E occupazionali E anticipato Valeria Ma anche di una città Che possa guardare Agli anziani E il giorno successivo Dunque lunedì Matteo Ricci Sarà nei nostri studi Per l'appuntamento Con primo cittadino Come sempre Potrete intervenire In diretta Telefonandolo 0721 86 14 33 Oppure inviare Brevi messaggi Di testo Anche con Whatsapp Al 338 49 68 250 Intanto fra poco Torna una nuova puntata Di Cuochi di Bordo Alla quale seguirà Il telegiornale Di mezzasera E poi La partita Di volley Di serie A2 Che si è disputata Ieri fuori casa Al Palavigi Tra la Golden Plus Potenza Piccina E il Coma Del Reggio Emilia Quello che vedete In sovraimpressione Invece il numero di telefono Dedicato alle vostre segnalazioni Per noi sempre fondamentali Io vi ringrazio Per aver seguito Il nostro telegiornale Occhio alla notizia E vi auguro Una buona serata Arrivederci A presto Grazie a tutti.